Penultima domenica di ottobre e comincia anche il campionato di seconda categoria. La delegazione di Catanzaro vede impegnato il Girone C con le squadre del Catanzarese ma con la presenza anche di cinque squadre del Crotonese. Quest'anno il Girone è formato da 14 squadre e sono rimaste in tre le trasferte più lunghe per le squadre catanzaresi che devono andare a giocare a Cacuri, a Torremelissa, a Cotronei e un po' anche a Sersale per quelle che sono dello Ionio. Comunque è cominciato questo campionato con cinque vittorie delle squadre e due pareggi. Una di queste vittorie è stata conseguita in trasferta. Peraltro hanno vinto in casa le Castella contro il Real Cropoli per 2-1, lo Sporting di Crotone, sempre 2-1 contro il Real Cotronei e in trasferta ha vinto anche il Petrona a Valle Fiorita, quindi sono due le partite in trasferta, per 2-1. Ha vinto 4-2 la Sersalesi in casa contro la Maroni e ha vinto la Polisportiva Palermiti a Cacuri contro lo Sporting di Cancuri per 2-0. Era una delle trasferte più lunghe, questa come dicevamo, per le squadre del Catanzarese e la squadra del Presidente Truglia, rinnovata sia nell'allenatore, il nuovo allenatore Maurizio D'Amico, quest'anno che è nella Rosa, è riuscita a cogliere il primo successo del campionato dopo che lo scorso anno, come tutti quanti ricorderete, ha perso lo spareggio per i play-out, quindi ufficialmente era stata retrocessa e poi è stata ripescata nel girone C di seconda categoria. Il pareggio invece lo Schillation, 2-2 nella prima partita contro la Torre Melissa, quindi la squadra di Squillaccia neopromossa dalla terza categoria, comincia con un pareggio alla doppietta di Torchia, non è bastata per vincere la prima partita. Come dicevamo, va male alla Maroni e nella trasferta di Sersale, va male anche alla Nuova Valle che, retrocessa dalla prima categoria, si trova sconfitta nella prima giornata in casa contro l'US Petrona. Pareggio anche tra l'Academy Girifalco e il Real Iannò, era andato in vantaggio l'Academy Girifalco, poi il Real Iannò ha pareggiato. Da questa giornata, come si comincia a vedere, è un nuovo campionato più lungo dello scorso anno, ricordiamo l'anno scorso appena 10 squadre, quest'anno almeno sono 14 e quindi ci sarà possibilità di lottare sia per la zona dei play-off e di non essere infischiati immediatamente nella zona play-out o nella zona retrocessione. Domenica prossima, con l'inizio, il ritorno dell'ora solare, avremo la seconda giornata che vedrà un derby proprio tra Palermite e Nuova Valle, ma qui ce ne saranno diversi derby, ci sarà anche Amarone Skill Legion e quindi ci saranno l'opportunità quest'anno almeno di avere trasferte vicine e derby importanti.